Rinvio a giudizio. Lo ha chiesto la procura di Trento al termine delle indagini su Saverio Tateo, ex primario di ginecologia all'ospedale Santa Chiara, e sulla sua vice Liliana Mereu. I due medici gestivano il reparto dove lavorava Sara Pedri, la ginecologa di 31 anni sparita il 4 marzo del 2021. Il giorno precedente, la ragazza si era dimessa dall'azienda ospedaliera lamentando continue umiliazioni sul lavoro. Il suo corpo non è ancora stato ritrovato, ma si ritiene che Sara si sia tolta la vita. Gli investigatori hanno chiesto di processare Tateo e Mereu per maltrattamenti. Il giudice deciderà se accogliere la richiesta nell'udienza che si terrà a novembre. Sara Pedri è una delle 21 parti offese nel procedimento sui presunti abusi. L'accusa, sulla base delle testimonianze di nove professionisti sentiti in passato, parla di ingiurie, intimidazioni, atteggiamenti denigratori, minacce di sanzioni disciplinari, atteggiamenti inquisitori con ricerca generalizzata di un colpevole per ogni minimo errore, attività di demansionamento del personale, incondotte vessatorie motivate da personali ragioni di risentimento e non giustificate da specifici rilevanti errori professionali. Questi comportamenti avrebbero provocato costante paura, umiliazione, sofferenza e annichilimento e conseguente quotidiana e generalizzata situazione di stress lavorativo, sia in danno del personale medico che di quello infermieristico. Secondo l'accusa, Sara subiva rimproveri in sala operatoria e aspere critiche nello svolgimento di altri servizi, convincendosi, in un clima di sfiducia crescente che finiva per permearla totalmente, di essere persona incapace di esercitare la professione medica, cadendo in uno stato di prostrazione fisica e psichica, con importante perdita di peso da stress lavorativo, tanto da determinarsi a presentare le dimissioni il 3 marzo 2021, e a scomparire dal 4 marzo 2021, con sospetto di condotta suicidaria. Per ogni presunta vittima vengono presentati 7 o 8 episodi di presunti maltrattamenti, situazioni che si sarebbero verificate durante l'orario di lavoro, e che per Sara Pedri avrebbero alterato il suo equilibrio psicofisico, come quando l'ex primario colpiva la mano di Pedri, che aveva impugnato il bisturi invece che la forbice, urlandole contro. O quando, il 26 gennaio del 2021, Mereu rimproverava aspramente con tono di voce alto e alterato Pedri, che svolgeva le funzioni nell'ambulatorio di pre-ricoveri oncologici, in relazione a un paziente oncologico che si era allontanato non acconsentendo alla effettuazione di un intervento chirurgico, senza essere trattenuta da Pedri. La vicenda aveva spinto l'azienda sanitaria a istituire un comitato d'inchiesta interna. Anche il Ministero della Salute aveva inviato ispettori in ospedale per verificare cosa accadeva in quelle stanze. In quella occasione, gli ispettori evidenziavano criticità oggettive nella gestione del personale del reparto. Sara non avrebbe resistito a queste pressioni. Si sarebbe sentita affranta e mortificata, fino a quando ha deciso di sparire. La ginecologa aveva raccontato ai familiari, agli amici e all'allora fidanzato di non farcela più. I suoi colleghi hanno disegnato l'immagine di una brillante dottoressa che aveva bruciato le tappe dal punto di vista professionale, ma ultimamente era profondamente cambiata. L'ex primario Tateo si è sempre difeso dicendo che non è il mostro che tutti dicono. Il medico ha sottolineato che il disagio di Sara sarebbe cominciato prima di avere il posto all'ospedale di Trento. La procura la pensa diversamente. Per la famiglia di Sara la notizia della chiusura delle indagini è un piccolo passo, ma anche un grande salto verso la verità. La sorella Emanuela ha commentato così la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per i due medici. Una data importante, un altro grande passo per quello che ci auguriamo sia il processo. Nonostante il dolore, la famiglia ha sempre mantenuto una grande dignità. Non ha mai usato parole d'odio o puntato il dito contro presunti colpevoli. Ha sempre portato la testimonianza di Sara per assicurarsi che certi comportamenti sul luogo di lavoro non si ripetino più. Qualche tempo fa la madre Mirella Sintoni aveva raccontato quello che Sara le aveva detto prima di scomparire. In un momento di tenerezza mentre io e Sara eravamo sul divano, lei mi ha dato la mano e mi ha sussurrato come si sta bene quando si è felici. Poi mi ha chiesto una cosa e lì non potevo immaginare che cosa avesse in mente. Mi disse, mamma, come si fa a scomparire? Io le risposi che nel medioevo chi voleva scomparire andava in qualche convento. Non potevo immaginare che fosse lei a voler sparire. Questa vicenda risale al 28 febbraio 2021, l'ultima volta in cui Sara era tornata in famiglia a Forlì, la sua città d'origine. Continua la madre. In quel periodo di febbraio quando Sara era tornata a casa, abbiamo subito notato che era molto deperita, magrissima. Tormentava le sue mani e si mangiucchiava le unghie. Una dottoressa ci aveva detto che era stress da lavoro. Lei si è anche confidata e ci ha raccontato delle difficoltà che viveva quotidianamente nel reparto. Certo non potevamo pensare che volesse morire. Insieme avevamo preparato la lettera per le dimissioni, così da allontanarla un po' da quell'ambiente che l'aveva turbata nel profondo. Il 4 marzo Sara ha deciso di sparire. Quando abbiamo trovato la sua macchina e abbiamo visto che all'interno c'era il suo cellulare, noi familiari abbiamo subito pensato al peggio. Quel giorno Sara salì in auto e percorse la strada che dal suo appartamento di Kless porta al ponte di Mostizzolo. Secondo le ricostruzioni, dopo aver parcheggiato, scese dalla macchina portando con sé solo la carta d'identità. Il cellulare era spento. I cani specializzati nella ricerca di persone scomparse hanno fiutato i suoi passi fino a un dirupo che sovrasta il torrente Noce. A poca distanza il corso d'acqua sfocia nel lago di Santa Giustina. Le ricerche in quella zona non si sono mai fermate, ma di Sara non c'è ancora nessuna traccia, conclude la madre. Tutti i giorni cerco Sara dentro casa. La trovo fra le sue cose, fra i suoi libri. Passo il mio dito fra i suoi scritti per sentirla ancora vicino. Nella sua stanza è rimasto tutto com'era. Stringo forte i suoi vestiti che hanno il suo odore. Anche la sua stanza conserva il suo odore nonostante il tempo passato. Guardo le foto e vedo quel sorriso. è un colpo al cuore. Di mia figlia non è stato trovato ancora nulla.